Blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Campobasso sulla costa molisana. A Campomarino le forze dell'ordine hanno individuato e arrestato un pusher specializzato in spaccio di cocaina. Lo spacciatore, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di 768 grammi di polvere bianca purissima in diversi involucri da cui si sarebbero ricavate dalle 3.500 alle 3.800 dosi per un valore di mercato al dettaglio di circa 150.000 euro. Sequestrato anche un bilancino di precisione e una termosaldatrice per sigillare le dosi. Anche in questo periodo di grave emergenza epidemiologica l'arma dei carabinieri non smette di esercitare la sua azione di contrasto nel territorio molisano. E il sequestro di questi 768 grammi di cocaina a breve distanza dall'operazione Piazza Pulite, a breve distanza dall'operazione Untouchable, lo dimostrano. Ricordo a tutti che la droga non è solamente uno strumento che impedisce l'emancipazione e la realizzazione professionale, sociale, economica dei nostri ragazzi, ma è uno strumento di morte. È uno strumento che serve a massimizzare i profitti delle organizzazioni criminali ed è uno strumento che noi dobbiamo combattere con tutte le nostre forze. Quindi l'arma dei carabinieri risponde ancora una volta alla chiamata di intensificare l'azione di contrasto che ci ha fatto il nostro procuratore D'Angelo e rispondiamo con questo sequestro, con questo maxi sequestro di cocaina. Il comandante del reparto operativo Alessandro Menilli, insieme al capitano Rosarno, ha parlato anche delle perquisizioni effettuate nelle scorse ore in via Ferrari a Campobasso. Un'attività dettagliata e attenta, volta sempre alla repressione dello spaccio di stupefacenti.